un bel ritrovato cari amici di auto occasioni oggi ci troviamo da logica kia siamo in piazza aderna 229 a torino e con me davide marano ciao elisa e ciao a tutti voi e benvenuti uno show room davvero immenso più di 2000 metri quadri di esposizione molto comodo da raggiungere e soprattutto con tantissime promozioni per questo mese ma prima davide ricordiamo le altre sedi ricordiamo le altre sedi borgaro via lanzo 29 via repubblica 60 a biella e piazza aderna 229 torino dicevamo tantissime promozioni questo mese imperdibili che adesso andremo a scoprire durante la puntata ma ricordiamo anche la formula free 96 che consente di guidare senza pensieri ormai continuiamo a ripeterla ogni mese free 96 cos'è comprate la vettura che desiderate un forte sconto tutti i servizi inclusi e dopo tre quattro cinque anni potete decidere di cambiare la vettura con un altro modello benissimo allora davide andiamo subito a scoprire le offerte di questo mese quindi ti seguiamo e partiamo con la più piccola kia picanto disponibile in pronta consegna sia benzina che benzina gpl allestimento special edition full full option con sconti fino a 3.000 euro grazie alla rottamazione e al free 96 e non poteva mancare nella gamma la kia sport è già anche lei disponibile benzina benzina gpl o addirittura diesel mild hybrid parliamo per le possessioni di partita iva formula k lease sconto fino al 20 per cento su tutte le vetture disponibili in pronta consegna e oltre al nuovo come sempre logica kia da proporvi anche tantissimo usato chilometri zero aziendale andiamo a vederle partiamo con la nuova kia sport 1.6 turbodiesel cambio automatico allestimento style chilometri solamente 21.000 prezzo 28 mila e 900 euro bellissima ford eco sport mille turbo benzina 125 sono i cavalli anno 2019 vettura fatturabile con livello esposta prezzo 15.490 euro introvabile sul mercato sport gpl anno 2020 chilometri solamente 45.000 prezzo 23.900 euro fiat 500 mille due lounge 80.000 sono i chilometri anno 2015 prezzo 8.500 euro ideale per la famiglia fiat tipo quattro porte 1.4 benzina gpl anno 2017 prezzo 11.900 euro saion corando gpl disponibile in pronta consegna 56.000 sono i chilometri anno 2020 prezzo 18.900 euro opel moca x 1.4 benzina gpl anno 2018 prezzo 16.900 euro particolarissima renault captur mille turbo benzina gpl allestimento rs line anno 2022 chilometri solamente 33.000 prezzo 21.900 euro drf 35 1.500 turbo gpl anno 2020 chilometri chilometri solamente 77.000 prezzo 19.500 euro chi a rio mille due benzina gpl anno 2021 chilometri solamente 43.000 prezzo 15.900 euro non poteva mancare la chi a nero vettura ibrida a cambio automatico anno 2018 chilometri 90.000 prezzo 16.900 euro vettura 4x4 turbo benzina a cambio automatico chi a sport di allestimento gt line anno 2019 prezzo 25.900 euro chi a sport di 1.6 turbodiesel allestimento energy chilometri solamente 66.000 prezzo 23.900 euro peugeot 2008 1.5 turbodiesel cambio automatico allestimento allure navigatore inclusione del prezzo prezzo 24.500 euro introvabile sul mercato nissan cascai 1.300 mild hybrid cambio automatico 158 cavalli chilometri solamente 32.000 anno 2021 prezzo 28.900 euro chi a exit 1.6 turbodiesel allestimento style anno 2020 chilometri solamente 44.000 prezzo 19.900 euro nissan cascai 1.5 turbodiesel cambio manuale anno 2019 chilometri prezzo 284.000 prezzo 19.800 euro bellissimo volvo xc 40 allestimento business 4x4 cambio automatico chilometri solamente 70.000 anno 2019 prezzo 27.900 euro audi q2 1.6 turbodiesel cambio automatico vettura fatturabile con iva esposta chilometri solamente 83.000 prezzo 21.900 euro mazza cx 3 1.5 turbodiesel anno 2018 chilometri solamente 80.000 prezzo 15.500 euro bellissima opel corsa 1.300 turbodiesel allestimento bicolor anno 2018 chilometri solamente 79.000 prezzo 11.600 euro jeep compass 1.600 turbodiesel allestimento sport anno 2019 chilometri 84.000 prezzo 17.900 euro bellissima scoda fabbia mille benzina euro 6 con omologazione anno 2019 chilometri solamente 40.000 prezzo 11.900 euro chi ha piganto mille benzina 5 porte anno 2018 chilometri solamente 48.000 prezzo 9.500 euro bmw 216 di anno 2018 chilometri 54.000 prezzo 16.900 euro avete visto davvero tantissime proposte tante tante altre vi aspettano qui in showroom con tantissimo nuovo usato chilometri zero aziendali ricordiamo gli indirizzi ricordiamo sempre le sedi piazza aderna 229 torino biella via repubblica 60 e borgo torinese in via lanzo 29 ricordiamo anche la formula free 96 che vi consente di avere tantissimi servizi e poter cambiare la vostra vettura dopo qualche anno con un'altra nuova allora grazie davide grazie a te elisa e un saluto a tutti voi vi aspetto alla prossima puntata ciao